Musica Oggi è mercoledì 17 febbraio, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino alle 7 e mezzo come tutte le mattine da lunedì al sabato siamo in diretta per sfogliare i giornali, i giornali che troverete come sempre in edicola il resto del carino, il Corriere Adriatico e del Messaggero cominciamo dal Santo del Giorno però come sempre vediamo chi ricorda la Chiesa oggi oggi la Chiesa fa memoria di 7 uomini, 7 fondatori dell'Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria allora intanto la collocazione, siamo in Toscana e soprattutto intorno al 1240 queste 7 persone, ricordiamo anche questi nomi, i loro nomi sono nomi che appartengono un po' al passato che adesso non si danno più ai figli Bonfiglio, Bonaggiunta, Manetto, Amideo, Sostegno, Uguccione e Alessio erano dei semplici fedeli che a un certo punto hanno deciso di dar via a tutti i loro beni un po' anche come ha fatto San Francesco insomma e di andare a vivere lontani su un monte, il monte Senario, ok? e beh da lì poi hanno fondato le varie congregazioni si sono insediati a Firenze, Siena, Città di Castello, Borgo Sansepolcro il sole è sorto alle 7.05, tramonterà alle 17.39 oggi avremo precipitazioni al primo mattino, deboli residui sui settori interni nel corso del pomeriggio invece possibili locali piovaschi o brevi rovesci questo in particolare sull'Urbinate, sulla parte dell'entroterra pesarese e poi come vedete sulla parte meridionale dei Sibillini e sulla costa, sul Conero domani giovedì 18 di febbraio avremo più o meno tempo variabile con cielo sereno poco nuvoloso venerdì qualche piovasco nell'entroterra marchigiano ma nulla di più il fine settimana, in particolare dalla seconda parte della giornata di sabato sarà caratterizzato da tempo soleggiato accompagnato da un marcato aumento delle temperature una sorta di assaggio di primavera allora cominciamo a leggere i giornali e partiamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino perché? Perché c'è un articolo interessante questa mattina con tanti numeri ma che ci danno un po' il senso di come stanno andando le cose eravamo 64.000 residenti a Fano nel 2011 adesso invece siamo in un saldo negativo incredibile nel 2015 a fronte di 447 nati ci sono stati 657 morti quindi meno 210 da quel famoso 2011 è iniziato il declino con il record nel 2014 con un calo di 2814 unità quindi siamo sempre di meno si è arrivati a poco più di 60.000 il fanese va via, questo è il titolo la cicogna cambia strada mai così pochi negli ultimi dieci anni questa è dunque la fotografia politici, l'ospedale non è un'azienda lo dice il vescovo il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola il vescovo che ha visitato ieri nel giorno del suo compleanno i malati nel giubileo del malato troppe famiglie, dice, trasarti costretti a far ricorso alle badanti per accudire i propri cari vescovo che ha compiuto 68 anni e ha festeggiato appunto il suo compleanno tra i malati la priorità all'interno di un ospedale ha detto non è assicurare le eccellenze ma garantire la cura delle patologie ordinarie legate all'allungamento della vita ed ecco dunque l'importanza di reparti come medicina, lungodegenza, postacuzie e riabilitazione poi sulla vicenda su quell'incendio che ha coinvolto un'azienda di verniciature di Arosciano di Fano sono state aperte due inchieste intanto l'ARPAM rassicura sull'amianto dice che non ci sono pericoli e migliorano, questa è l'altra buona notizia invece le condizioni di Roberto Diotallevi che è il 57enne titolare della Vib di Rosciano che lui è di intorno a mezzogiorno è stato investito dalle fiamme nel tremendo incendio che si è propagato all'interno della sua ditta di verniciature l'origine del fuoco pare sia una carica elettrostatica dovuta a uno sfregamento di abiti in un ambiente già carico di gas poi giustamente il resto del Carlino questa mattina dedica una pagina ad un signore che compie 90 anni è un imprenditore che ha fatto la storia di un ristorante il ristorante Monte Cucco si chiama Armando Roberti compie 90 anni ed è il fondatore appunto di questo ristorante a San Giorgio di Pesaro una delle grandi eccellenze dell'entroterra che ha aperto i battenti nel lontanissimo 1949 c'è la fotografia la fotografia di tutta la famiglia 67 eredi in cucina però dicono è lui ancora il boss in effetti qualche sera fa siamo andati a cena proprio in questo ristorante e mi diceva insomma c'era questo signore di 90 anni che ancora era in cucina era ancora in cucina che insomma stava lì e guardava un po' dirigeva ancora mi piaceva dirigere, stare attento e stare dietro un po' a quello che succede tra i fornelli adesso il Corriere Adriatico monitoreremo questo territorio sono parole del Vice Ministro Bubico che ha incontrato ieri gli studenti nella sala laureana a Pesaro per sensibilizzare i giovani alla legalità il Vice Ministro, il Prefetto Giuffre sulla lotta alla mafia e il racket poi colpi in serie colpi in serie e spaccata siamo sulla pagina di Senigallia l'assalto sventato dai fumogeni perché adesso va di moda cos'è questi fumogeni? in realtà è un sistema anti-ladri in qualche modo anti-intrusione che si mette in azione quindi praticamente spara tanto fumo quindi impedisce ai ladri di vedere all'interno del locale quindi uno entra partono questi fumogeni e di conseguenza i ladri sono quasi sempre costretti ad andare via perché poi non si vede nulla e poi dà anche fastidio è il quarto colpo in un anno in questo locale che è una piadineria una pizzeria di Corinaldo sempre a Senigallia i ladri avevano preso di mira alcune automobili parcheggiate in via 24 Maggio ai danni dei clienti dell'Eto bene è stata recuperata l'area furtiva vicino a questa sala da ballo poi vi segnalo questa notizia a Trecastelli una pecora che è caduta in un pozzo ed è stata recuperata ieri mattina dai vigili del fuoco la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico anche oggi sulla carnevalesca è già corsa alla presidenza perché? perché Luciano Cecchini che punta a essere confermato per il terzo mandato da presidente in realtà forse dovrà vedersela con Maria Flora Gianmarioli che è questa ragazza che il giornale giustamente pubblica con la fotografia nel 2015 Maria Flora Gianmarioli si dimise dalla vicepresidenza dell'ente carnevalesca dice lei aveva un'attività e Cecchini essendo un uomo che non delega scrive il giornale insomma dice io non avevo tempo per poter seguire tutto quanto Gianmarioli questa candidatura alternativa a Cecchini è sostenuta dai carristi ed è noto insomma che tra i carristi e l'ente carnevalesca non scorra buon sangue non ho sciolto la riserva dice Maria Flora Gianmarioli c'è un interessamento nei miei confronti e questa sera avrò un incontro chiarificatore credo che negli ultimi anni dice ancora lei non sia stata valorizzata la componente creativa dei carri allegorici l'altra pagina del Corriere Adriatico proteste ci sono delle proteste all'interno del cimitero per i lavori al campo 16 al cimitero dell'Ulivo sono state esumate delle salme non decomposte i parenti devono sostenere altre spese corpi cremati o risipolti non toccate cento tombe del quinquennio precedente nell'area già scusate nell'area già inumati i tre defunti tra fango ruspe e rimasugli delle rimozioni e c'è questa protesta che tra l'altro è sicuramente anche un po' legittima comprensibile guardate non so se la fotografia rende si riesce a capire dal televisore un po' la situazione allora faccio velocemente guardate questa è la ruspa guardate il terreno e questa è una è una tomba questa è un'altra tomba vedete le croci ecco in un campo che sembra tutto tranne che è un un campo santo insomma ecco dai diciamoci adesso non so se è una cosa momentanea ma noi sui cimiteri davvero la nostra redazione riceve tantissime segnalazioni spesso le teniamo da una parte certamente nulla va perduto però ecco le lasciamo lì teniamo ma cominciano a essere davvero tante e devo dire che insomma ecco questa fotografia ci fa capire un attimo insomma bisogna un po' un po' di rispetto timori per la strada chiusa e la sosta c'è stato un incontro tra i residenti di via Garibaldi siamo in centro a storico a Fano dove c'è la posta centrale un incontro tra i residenti e gli amministratori bene l'intervento di restyling dunque di rifacimento ma sarà comunque un caos il sindaco promette parcheggi gratuiti nella caserma a Paolini e sul vialetto laterale di Viale Gramsci però sapete tanto è chiaro e normale che quando ci sono dei lavori insomma ci sono inevitabilmente anche dei disagi centro Margherita pochi aiuti regionali è il bilancio fatto ieri dalla cooperativa Labirinto che gestisce la struttura per malati di Alzheimer poi la pagina di Fano e Valle del Cesano da Marotta lavori in piazza dell'unificazione e a Piano Marina vogliamo investire e ridare un decoro a quei luoghi che rappresentano il nostro salotto salotto buono chiudiamo la rassegna stampa con le pagine del messaggero allora mentre a Roma si parla si discute si lotta sulle unioni civili in consiglio comunale a Pesaro si fa la battaglia sul testamento biologico ed è bagarra in particolare il registro sul testamento biologico fa infuriare le associazioni cattoliche voto con poca competenza e senza alcun valore giuridico e ma così facendo si apre all'eutanasia e il centrodestra appunto il dito sul sindaco Ricci è stato sempre in silenzio su questo tema insomma il via libera di lunedì sera da parte del consiglio comunale al registro sulle dichiarazioni anticipate di trattamento ha creato una spaccatura all'interno del partito democratico con i quattro dem che hanno i quattro del pd che hanno bocciato la mozione sono Bartolucci Coraducci Barbanti e la Ceccaroli e nel giorno dopo nel day after nei confronti di quei consiglieri comunali che hanno detto sì al testamento biologico e verso il comune si scatena la rabbia di 20 associazioni in prevalenza cattoliche ma anche legate al mondo dell'associazionismo e il messaggero chiaramente dedica una pagina interna e intera su questo argomento Banca delle Marche invece Carloni il fanese Mirco Carloni che è consigliere regionale di alleanza popolare è stato eletto a capo della commissione su Banca Marche tre mesi per capire un po' quello che è successo ma mezza opposizione va via e dice eletto dal PD dovrà indagare sul buco dell'istituto il neopresidente dice sono stato il primo a denunciare la nuova questura torniamo a Pesaro all'ex intendenza sciolto l'ultimo nodo ottimista il sindaco Ricci siamo in dirittura d'arrivo più soldi disponibili per la ristrutturazione sono circa 6 milioni c'era un problema sulla questione dell'antisismica ecco tutte cose che sono state risolte penso che insomma la cosa possa andare avanti fuga in Romagna invece per le future mamme negli ultimi tre anni oltre 800 donne del pesarese hanno scelto di partorire all'ospedale infermi di Rimini il primario di ostetricia del San Salvatore di Pesaro Marabini dice non ci sta giustamente arrabbiata dice questa mobilità cioè il fatto che queste donne 800 donne siano andate a Rimini non ha più ragione di esistere la pagina di Fano invece del messaggero Tombari il presidente della fondazione Cassa degli Sparmi di Fano che si scaglia contro la regione Marche e la definisce matrigna mentre Fano è cenerentola in fatto di sostegno ai servizi per trattare la demenza senile nel Mirino finisce la scarsità di fondi per i servizi di sostegno al centro Margherita sono troppo pochi dice Tombari i convenzionati rispetto ad altre strutture la casa di urna infatti offre assistenza ad anziani sofferenti di demenza senile e di Alzheimer migliora il tecnico ustionato nell'incendio dell'altro giorno il fanese Roberto Di Ottalevi di 57 anni e poi ferite lievi per un chiamionista che ieri si è scontrato con un altro autotreno prima della galleria di Novilaro un incidente sull'A14 che è avvenuto ieri mattina alle 6 tensione invece tra le associazioni in mare troppo evangolare dicono se tacciano il braccio di mare davanti alle coste marchigiane solo nella nostra regione è concentrato un terzo della flotta italiana insomma come dire tutti a pescare nello stesso posto il posto è quello il mare è poco il tratto è quello lì però c'è troppa gente ci sono troppe troppe vongolare e poche vongole piace invece il restyling di via Garibaldi al futuro cantiere illustrato ai residenti e ai negozianti resta l'incognita dei parcheggi ma come abbiamo visto insomma si sta arrivando anche lì ad una soluzione mi pare che non ci sia altro se non questa notizia che torniamo torniamo a leggere dal Corriere Adriatico sulla tragedia sulla tragedia di queste due splendide bimbe che purtroppo sono morte in un incidente stradale per il funerale adesso si attende che il papà esca dall'ospedale il papà è ricoverato all'ospedale di Urbino mentre la mamma ad Ancona insieme al figlioletto che invece l'unico dei tre che si è salvato di dieci mesi che sta migliorando slitta ancora l'addio mentre è aperto un conto corrente solidale lo ricordiamo che la parrocchia e la parrocchia di Sant'Angelo Invado insieme al Comune hanno aperto un conto corrente bancario presso nuova banca delle Marche c'è l'Iban che è pubblicato sul quotidiano ma è pubblicato anche sui vari siti internet compreso il nostro ecco per chi volesse aiutare la famiglia che la famiglia ha a sostenere le spese anche del rimpatrio evidentemente delle salme poi tra l'altro ecco qui l'altra pagina del giornale c'è la alla tragedia si aggiunge altra tragedia nel senso che la mamma ancora non sa che le due bimbe che le vedete in questa bellissima immagine sono morte ancora non gliel'hanno detto i medici hanno preferito non aggiungere altro dolore quindi al momento la donna sa che le due bambine sono ferite sono ricoverate ad Urbino lontane da lei il fratellino invece come ho appena detto Fabrice è ad Ancona e sta facendo miglioramenti però ecco bisognerà fare un grosso respiro e poi trovare il modo di dirglielo però insomma ecco questa è la situazione e questo è quello che e quindi c'è questo conto corrente chi vuole chi ha la possibilità può aiutare appunto questa famiglia a non avere almeno il pensiero di come rientrare o di come gestire questo evento la rassegna stampa è finita io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è come sempre il nostro telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci arrivederci a a a Grazie a tutti.